Ciao ragazzi, un abbraccio a Delia, un abbraccio a Marcello e a tutti gli juventinazzi e le juventinazze. Allora, Sassuolo è 1-3, tripletta di Dybala, un gol ogni 37 minuti, una tripletta alla centesima partita con la Juve, 50 gol nella Juve. Allora, siamo di fronte a un campione o siamo di fronte ad uno che può considerarsi un normale giocatore? Io penso che siamo di fronte solo a uno che si chiama Paolo Dybala, nient'altro di più, nient'altro di meno, confronti con Messi, Ronaldo, tutte queste cose sono tutte scemenze, ognuno ha le sue caratteristiche, la sua testa, la sua forza fisica, la sua forza mentale e ognuno di questi è un campione a modo suo. Dybala sarà il Dybala, termini di paragone li faremo fra qualche anno con altri giocatori, se saranno uguali al Dybala, ma sono discorsi sterili, inutili, perché a noi Dybala piace così e i paragoni commessi non aiutano e nello stesso tempo non portano pane a casa. Quello che ci interessa è vedere un giocatore a questi livelli, con questa tecnica e con questa fame, che producono solo risultati positivi e producono sicuramente spettacolo. La Juve oggi ha dominato in lungo e largo e ha dimostrato di aver superato l'impasse di Barcellona, anche se dobbiamo dire che è un impasse parziale, perché se quella partita fosse stata sbloccata forse oggi parleremo di altro. Non voglio dire di vittoria, ma sicuramente di un altro atteggiamento, di un'altra critica sulla partita. Adesso testa mercoledì con la Fiorentina, un test importante, perché i Viola si sono ripresi in modo veramente potente e soprattutto con risultati importanti. Ci auguriamo che questa volta la tripletta la faccia al grande pipì da Higuain, perché ha bisogno, noi dobbiamo incoraggiarlo, dobbiamo fargli sentire il nostro affetto e soprattutto, come penso che Mister Allegri lo stia caricando veramente per poterlo finalmente vedere e segnare. Perché come ben sappiamo per un attaccante il gol è il pane e vita. Quindi ci auguriamo mercoledì di poter ancora proseguire il nostro percorso a punteggio pieno, anche perché gli altri vincono e quindi dobbiamo essere sicuramente fronti, perché poi avremo sicuramente l'impegno più gravoso, ancora di più, che è quello del derby. Quindi forza Juve sempre, un abbraccio a tutti e alla prossima!